bella domanda eh dici eccolo bremer ok dammelo buono dammelo buono brasile a te chi è questo a stefrenza lo so figurati figurati terzino destro catiglou ragai per i pacchetti invitatemi quando volete quando volete o lo mette la iei o si fregato o si fregate e toz eccolo scesne oddio paolo no bello di maria comunque chi è questo a no che ripeto e toz italia bello tonali bello attenzione turco titi ok vediamo sotto che c'è vediamo sotto che c'è vediamo sotto che c'è vediamo sotto che c'è dove sta dove sta dove sta e italia cc però sandrino santo direi dammelo simen francese bellissimo il duca chi è no dai ma come ma che roba è e gunok vediamo sotto che c'è vediamo sotto che c'è ti prego iei ti prego iei ti prego iei ti prego iei no eccolo brasilian addi e magari e magari le altre carte vanno tutte quante categoria e bello barella amertens vabbè dai e tuz e tuz brasile addi eccolo strepezza sempre lui esce comunque sbaglio sempre lui esce vabbè chi me so le carte non sono lenti ma perché la serie a non è la premier league è normale è normale poi se la serie a non è non è la premier league è ovvio ragazzi ovvio ovvio e vedi che va a scaricare un pacchetto non scambiabile vedi la gente li trova nei pacchetti non scambiabili non li trova nei pacchetti nei pacchetti scambiabili è quello il problema capito capisci le tue le dire ecco perché magari la gente non le trova quelle carte purtroppo è così ragazzi purtroppo è così non aspettare ragazzi aspettare devo aspettare un attimo ora siamo ancora attendiamo ragazze teniamo allora aspetta scrivo ok perfetto si è quelli discorso l'avevo si ben noto 7 milioni ma scenderemo 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 allora c'è un siano giudizio si era più costato milioni costa ragazzi la più costa costa 2kk costa è un po troppo alto comunque ho si mette assoluto kkk speriamo ragazzi vediamo vediamo ragazzi vediamo vediamo quanto scende e poi si vede pure come come in game e che si in game è forte la gente ne parla bene potrebbe salire comunque un pochettino rapito e mezzo fida qua non spacchettano è così ragazzi la gente deve spacchettare boys la gente deve spacchettare boys marchino è il marchese esterno non può fare esterno marchisio da mediano si da mediano si magari mezzala pure anche da mezzala potrebbe starci anche da mezzala ci potrebbe stare di lorenzo smoling e tonali prendo ora si abbassano kingone io non comprei niente ragazzi per me sono folli preziosi ora come ora sono troppo troppo folli aspetta vediamo eh vediamo 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 ho si mette 6.8 lea ho 6.2 fa la scheda 5.7 ternandez 1.2 barella 7.74 brevere 200k smoling 2.49 vabbè smoling ancora ancora il flashback era forte cioè infatti infatti c'è smoling ancora 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 il prezzo era giusto giusto eccolo eccolo di maria 600.000 marciabert qualche pacchetto con i prestiti per caso per caso con i prestiti qualche pacchetto con i prestiti o si metta non lo so ragazzi quando scendono io l'ho detto per me su io lo ripetisco anche adesso cioè su su next gen su next gen non su old gen su next è un player che vale sotto il kk guardando le statistiche poi magari adesso lo proviamo ed è un mostro ed è un mostro vediamo ragazzi vediamo vediamo nel piccato se fecesse cosa può uscire i gioteri migliori dei campionati principali si è quello sicuri a vera abbia sta a 2.2 per dire quando lo mette sicci al fianco di matthaus si può stare però smoling scenderà comunque scenderà abbia secondo me qualcosa la perderà anche lui sicuramente sai cosa vi siete pure dato alla premita premita la vuole quale sarà il drop rate kim no kim è carino ci può stare ma non è male trotto di lorenzo si però vedi barellas 800.000 crediti sta barellas l'unico che mi aspettavo a quel prezzo è teo hernandez teo hernandez me l'aspettavo più o meno a quel prezzo e in teoria sì no la carta di spalling è bella ci sta ci mancherebbe e però deve scendere tutto più più alto di così non può stare secondo me aspettiamo è presto è presto è presto boys atteniamo e vediamo ragazzi al momento è presto secondo me king o quara 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 schelia sta altissimo eh quara sul mio eh dove da che pacchetto ma tutti non scambiabili stai trovando è quello il problema capito cioè che tutti quanti non scambiabili stai trovando è quello il problema è quello il problema ragazzi dove erano magnoli nelle bt non hanno messo ancora magnoli aspettiamo va bene king aspettiamo 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 grazie a tutti